Nell'anticipo della quarta giornata la Gione C di Promozione, il Torre del Rovere vince 1-0 con gol di Virgilio e batte. La Civiliatese, i padroni di casa, hanno disputato un buon match sotto il profilo del possesso, hanno però rischiato molto in fase di partenza. Alla fine l'hanno risolta con il proprio centroavanti, tre punti pesanti consentono alla Torre di rimanere in vetta alla galatoria. La Civiliatese che arrivava qui a Bagnatica con due punti raccolti, c'è dimostrata squadra tosta e venenosa in ripartenza, però ha pagato un clamoroso errore difensivo e alla fine coglie una sconfitta dolorosa che la lascia in fondo alla galatoria. Mister Fabio Carrara, tre punti pesantissimi per il Torre del Rovere. Sì, diciamo una serata non delle migliori per quanto ci riguarda, specialmente il primo tempo che non mi è piaciuto, dove è mancato tutto, è mancata tensione in particolare, è mancata intensità, è mancata qualità. Infatti abbiamo rischiato e siamo riusciti a mantenere lo 0-0 anche con un pizzico di fortuna. Dopo devo dire che nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, siamo stati bravi a tenere un po' più alto il baricentro, a alternare di più le giocate, a essere meno prevedibili. E quindi poi siamo stati bravi a sfruttare forse l'unico errore loro in fase difensiva. Come ti dicevo, alla prima giornata l'obiettivo è cercare di essere il più continuo possibile, anche perché incontriamo squadre che comunque hanno gamba, hanno intensità, sono attente, fanno bene la fase difensiva e quando possono ti fanno male. Ogni domenica è una battaglia e ogni domenica dobbiamo essere pronti a soffrire e dobbiamo essere capaci anche di soffrire. Ripeto, oggi il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo tempo molto meglio, al di là del gol e dobbiamo prepararci perché saranno tutte così, lo sappiamo, il nostro giro di promozione è un campionato così. Se vogliamo stare in alto dobbiamo essere solidi e cercare di non subire. Ripeto, oggi la fase difensiva non mi è piaciuta, specialmente nel primo tempo perché abbiamo commesso degli errori che normalmente non commettiamo e anche a livello di squadra eravamo un po' lunghi. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto bene tutte e due le fasi, siamo stati molto più corti tra i reparti e infatti abbiamo sofferto anche meno. Buona prestazione, però non sono arrivati i punti. Purtroppo stasera ci ha girato un po' male, soprattutto nel secondo tempo, dove siamo calati di intensità, abbiamo perso i metri e il Torre è stata molto brava a sfruttare l'errore nostro in fase difensiva e abbiamo preso il gol che ci ha costato comunque la partita. È una squadra molto giovane, sono personalmente contento del lavoro che stiamo facendo e dobbiamo continuare a lavorare in settimana per cercare di far arrivare quelli che sono i punti che servono per raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza. Siamo una squadra molto giovane, lo sapevamo fin dall'inizio di avere delle piccole lacune e di avere dei problemi lì davanti perché non abbiamo inserito il giocatore, la punta che ci potrebbe servire per toglierci quei problemi però sono convinto che i nostri ragazzi insieme al mister, insieme a tutto lo staff, lavorando e facendo comunque impegno, sacrificio e dando comunque continuità al lavoro che stanno facendo, il gol arriverà. Stasera ci ha fermato il palo nel primo tempo e una bellissima parata dal portiere sul nostro Dieciminelli. Devo fare i complimenti alla mia squadra oggi perché veramente ha fatto una prestazione molto importante. Un primo tempo magari forse equilibrato, però noi siamo andati in vantaggio, un secondo tempo di grande personalità, l'abbiamo gestito bene, siamo andati su 2-0, 3-0 contro una squadra che mi è piaciuta molto, una squadra che darà fastidio a tantissime squadre. Questo è un giro equilibrato, almeno da quello che sono riuscito a vedere io in queste prime partite, sono tutte ottime squadre. Ho chiesto di più attenzione perché stavamo prendendo un po' troppi gol e secondo me abbiamo risposto bene, abbiamo fatto un'ottima partita calcolando anche le assenze che avevamo importanti. Non siamo ancora la squadra che piace a me, stiamo lavorando, stiamo lavorando man mano, settimana dopo settimana, ci manca ancora qualcosa secondo me, però come dici giustamente queste vittorie ti danno fiducia, ti fanno capire che la strada da percorrere è questa, quella giusta, che porta a risultati, che porta a prestazione, che porta a gioco perché oggi a me la squadra è piaciuta tutto l'aspetto della personalità perché è riuscita a alzare, abbassare i ritmi della partita e ha fatto anche delle ottime giocate contro una compagine sicuramente di rilievo. Tutto il centrocampo secondo me ha lavorato molto bene, abbiamo avuto difficoltà il primo quarto d'ora a prendere un po' i riferimenti, poi ci siamo organizzati, ci siamo organizzati meglio, è andato tutto un po' più semplice, la prestazione di Andrea è stata una prestazione di alto livello, ma oggi non riesco a trovare un giocatore che ha giocato sotto livello, ha fatto veramente una partita strepitosa a tutti perché è stata una partita proprio di squadra, di coralità, oggi ho visto il gruppo. Il mio rosso è ininfluente a tutto, il rosso e i ducoli chiaramente, io dal campo non l'avevo visto un fallo così volontario. Effettivamente abbiamo incontrato una squadra tosta, una squadra impostata bene, che anche fisicamente ha il suo perché, noi gli siamo andati un po' con i due infortuni, abbiamo fatto una grande mezz'ora perché la prima mezz'ora credo che sia da una parte che dall'altra sia assistito veramente a una bella partita, abbiamo rischiato anche di poter andare avanti, poi abbiamo preso i due infortuni dei due centrali, preso un gol su una mezza pallaccia in area, dove è stato opportunista l'attaccante del pianico e da lì in secondo tempo siamo entrati per cercare di ribaltare, ma dopo due minuti abbiamo preso i due a zero e quindi diciamo che il filo nella partita è andato un po' tutta dall'altra parte. Non venivamo da tre pareggi, ma più che altro erano confortanti le prestazioni e quindi oggi pensavamo comunque di… effettivamente è stato un po' anche così perché la prima mezz'ora, come dico, siamo partiti proprio forte, poi purtroppo ogni partita viene condizionata gli episodi e oggi è girata tutta a sfavore. Per noi sarà un periodo lungo perché abbiamo cambiato 19 ragazzi su 22 e quindi un momento di assestamento ci vorrà, ma siamo sicuri che andare alla lunga potremmo dire comunque la nostra per raggiungere l'obiettivo. Sì, devo dire anche io, dopo due anni di eccellenza, anche io soprattutto nelle prime giornate ho trovato sia questi, ma anche domenica a Zingonia e soprattutto il cenate qui in casa, mi ha fatto una grande impressione, quindi sono sicuro che sarà, vedendo anche un po' i risultati, sarà un po' un campionato livellato. Chiaramente credo che Torre dei Roveri e anche Pianico forse potrebbero avere qualcosa in più.